Beh, sicuramente ogni anno c'è un motivo per creare aggregazioni con i ragazzini. Quest'anno, Don Vittorio, vi siete inventati Megali, questo mondo immaginario che però racchiude tante cose importanti perché si va a creare, si va a conoscere meglio cosa vuol dire amicizia, stare con la propria famiglia, insomma, si imparano tante cose. Sì, l'idea di Megali nasce da un progetto che i salesiani in qualche modo hanno adottato un po' in tutta l'Italia, ci sono tanti altri progetti che comunque i salesiani hanno adottato. Noi abbiamo scelto Megali, Megali che è una parola che rimanda un po' ai legami, i legami con la scuola, i legami con la famiglia, i legami con gli amici e poi tutto il discorso dei legami con la città. Quest'anno la storia è impostata sulla Grecia, sull'antica Grecia, dove c'è questa città sospesa e l'idea era proprio quella di far lavorare i ragazzi affinché questa città sospesa potesse risplendere grazie al loro aiuto. In che modo? Creando legami, creando legami che penso sia la cosa un po' più difficile oggi, tenendo conto del contesto sociale che ci circonda, creare legami veri di amicizia all'interno della scuola, all'interno della famiglia e poi all'interno appunto della città. Un po' quello che ha sempre voluto Don Bosco, creare aggregazione però cercando naturalmente di insegnare ai giovani quanto più possibile affinché possano vivere il loro futuro nel modo migliore. Sì, Don Bosco appunto ci ha insegnato tante cose, tra i quali quello di creare legami. Penso che l'oratorio di Valdocco, penso che partisse proprio con questa idea, secondo Don Bosco, quello di creare quei legami veri tra le persone senza tener conto del passato che il giovane potesse avere, ma quello di ricostruire un futuro, quindi tutto il discorso del sistema preventivo. Un mese di lavoro per quanto riguarda i stati ragazzi qui all'oratorio di Sassi e a Lette Dolce per insegnare loro tutte queste bellissime cose, insegnamenti che ha avuto Don Bosco e che questi religiosi continuano a portare avanti, perché insomma è importante tenere i ragazzi tutti uniti e divertendosi insegnarli qualcosa. Sì, il cammino, adesso siamo più o meno a metà, il cammino è molto duro, nel senso che i ragazzi hanno iniziato l'estate ragazzi, quindi questo cammino arrivando un po' da tutte le parti della città, abbiamo abbracciato un po' tutte le zone di Sassari, in particolare quelle della zona della Lette Dolce. La cosa bella è che arrivavano con idee tutte diverse, in particolare il discorso regole. Inizialmente si è visto anche col gruppo animatori che i ragazzi fanno fatica ad accettare quelle regole che forse non capiscono, ma capiscono nel momento in cui vivi un mese intenso, ogni giorno dalle otto del mattino fino alle due, due e mezza, eccetera, eccetera, un mese dove ripeti sempre quelle regole fondamentali che molte volte vengono a mancare perché il gruppo degli amici, il gruppo della scuola, il gruppo nella famiglia, i ragazzi molte volte sottovalutano queste regole qua. 270 bambini credo che sia stata una grande fatica a gestirli e tenerli tutti insieme. Ecco, la cosa bella, 270 ragazzi, abbiamo chiuso a 270. Io dico a me, ma c'erano anche di 16 anni, c'erano ragazzini anche più grandi. Siamo partiti dai 5 fino ai 16 anni, divisi per fasce d'età, come è solito impostare le state ragazzi qua, alla tè dolce, dai salesiani, è stato difficile gestirli, ma erano gestiti bene, perché c'è tutto un gruppo animatori. Come avete fatto a unire i ragazzini di 5 anni con quelli di 16? Perché erano tutti insieme, tutti un'unica forza, sembrava un'unica forza che andava incontro alla vita. Devo dire che quest'anno i ragazzi grandi hanno dato l'esempio a quelli più piccoli. L'esempio, appunto, come noi li abbiamo fatti sentire responsabili. Nel momento formativo, dicevamo sempre come gruppo animatori, come gruppo salesiani, non scandalizziamo quelli più piccoli. E questa cosa qua, i ragazzi adolescenti hanno avuto piacere di sentirsi dire questa cosa qua. Si sono sentiti importanti, importanti nel dare testimonianza. È una cosa meravigliosa. Andiamo a conoscerne qualcuno, andiamo a vedere un po' dei bambini, dei ragazzi, che hanno partecipato a questa Estate Ragazzi 2013 qui da Latte Dolce. Siamo all'Oreatorio di Latte Dolce, Estate Ragazzi 2013. Ciao! 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 Grazie a tutti!